momento particolare per la Viola Reggio Calabria momento particolare però per l'anno siamo in vicinanza delle festività natalizie abbiamo pensato che un po' di come possiamo dire di aiuto psicologico affettuoso potesse venire da Coach Recalcati buongiorno Coach e molte grazie per aver risposto alla nostra richiesta buongiorno a tutti buon pomeriggio allora Coach si sperava, si pensava a Reggio in un Natale un po' diverso potremmo dire più da protagonista poi ci si sono messe di mezzo gli infortuni probabilmente degli errori societari peraltro anche riconosciuti lei che suggerimenti ad adiuvandum darebbe al popolo reggino? innanzitutto di non perdere l'amore per la Viola credo che questo sia quasi superfluo perché chiaramente l'amore è una cosa che a Reggio viene dato in modo incondizionato quindi è sicuro che c'è in questi momenti bisogna anche stare attenti però che magari il troppo umore poi dopo non porti a esagerazioni quindi va visto sempre tutto con molta lucidità sapendo che il percorso per una società che ha stilato un programma sicuramente ambizioso nel presente però senz'altro che guarda molto lontano può strada facendo incorrere in qualche disavventura in qualche errore, in qualche contrattempo e quindi l'amore deve restare e non deve prevalere la delusione bisogna essere ottimisti bisogna sapere appunto che gli errori fanno parte del lavoro e della vita di una società sportiva, di uno sportivo che è una stagione molto lunga e quindi ciò che non si riesce a fare in alcuni mesi poi lo si può fare per il resto della stagione ma quello che conta di più è avere la capacità di vedere le cose a lungo termine e quindi pensare che quest'anno sono state gettate le basi che poi dopo su queste basi come è normale che sia e come capita a tutti che programmano dovranno essere fatte le opportune verifiche le considerazioni, le aggiunte, i cambiamenti e questo comporta tempo, pazienza e soprattutto capacità di restare con i piedi per terra Si può dire coach che i grandi nomi sicuramente superiori alla media delle attese di questo campionato abbiano potuto in un certo modo da una parte allettare molto dall'altra aver avuto bisogno come hanno bisogno di un inserimento più graduale di una ripresa più graduale ad alti ritmi? La realtà è che le squadre non si costruiscono le squadre si costruiscono sulla carta durante l'estate ma poi dopo ci vuole tempo e tante volte noi allenatori ma non solamente noi allenatori tutti coloro che vogliono bene la squadra vorrebbero vedere che le cose funzionano subito e appunto magari i grandi nomi possono trarvi un pochino in inganno il fare squadra è un meccanismo molto sottile molto delicato e quindi a volte ci vuole più tempo di quello che ci si immagina spero che non sia il caso di Reggio a volte non basta un campionato per poter trovare una logica di squadra purtroppo lo sport è un gioco di squadra non è una scienza esatta non è matematica entrano in gioco appunto i caratteri, i sentimenti, gli umori e quindi bisogna comunque appunto credere e essere convinti delle scelte che sono fatte e portarle avanti sapendo che poi ci si deve confrontare con dei contrattenti Coach può essere successo che e così concludiamo chiedendo a lei anche comunque gli auguri per tutta la città per tutti i tifosi può essere successo che la squadra, la società chi come benedetto vive la realtà regina intensamente non abbiano trasmesso ai giocatori tipo Crosariol tipo Mordente che arrivavano da realtà completamente diverse lo stesso Breckins o Freeman non abbiano potuto trasmettere la forza del messaggio del progetto Reggio? Ma no, questo è un problema che esiste nella pallacanestro di oggi non è un problema di Reggio è un problema di tutte le società di tutte le squadre perché chiaramente la storia è sentirsi partecipi di un qualcosa che è partito da molto lontano e che comunque è una realtà che c'è stata e che c'è stata proprio perché ci sono state tante persone che hanno fatto il bene di quella società di quella maglia non è detto che debba essere recepita subito purtroppo questo qui è il problema dei nostri tempi in cui si cambia tanto e noi avremmo la pretesa abbiamo la pretesa che uno arriva improvvisamente si cava in una maglia e la sente propria ci vuole del tempo ci vuole chiaramente il tempo necessario per fare questo il motivo per cui insomma i giocatori e le squadre del passato avevano la netta percezione la netta condizione di ciò che voleva dire indossare quella maglia è perché la indossavano per tanto tempo e quindi pian pianino la facevano propria per fare questo chiaramente cambi dieci giocatori o nove giocatori da un anno all'altro durante il campionato cambi magari inserisci degli altri giocatori non è voglio dire un interruttore che si può girare a piacimento il fatto di di sentire proprio la maglia e la riginità in questo caso ma lo stesso discorso vale per Venezia vale per Milano vale per per tutte le piazze purtroppo è la realtà della pallacanestro professionalistica di oggi parole molto sagge e veramente molto vere relative anche ai fatti generazionali perché in pochi dei giocatori che oggi sono a Reggio o che sono a Milano o a Varese un'altra grande piazza quanti giocatori che sono a Varese capiscono bene che cosa sono quelle bandiere che pendono dal soffitto purtroppo bisogna spiegarle forse a volte uno può anche dire ma io adesso sono qui per il mio lavoro il passato alla napoletana ascoltando il suo passato forse purtroppo è la realtà è la realtà poi ognuno ha una sensibilità diversa l'uno dall'altro c'è chi lo percepisce più di c'è prima lo fa lo fa suo prima e chi ci mette più tempo chi non non ci riesce mai una volta i giocatori probabilmente si scambiavano giravano nel circuito e comunque sapevano in quale punto del circuito finiva Coccio auguri a lei per tanto tempo auguri a lei personalmente auguri alla sua squadra e ci lasciamo con gli auguri alla nostra piazza l'augurio reggio di un felice Natale di un prospero anno nuovo e soprattutto grande fiducia nella viola bene grazie a lei coach ancora tanti tanti auguri grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi